Se i licei, anche per il prossimo anno scolastico, rimangono i preferiti dai ragazzi che a giugno sosterranno gli esami di terza media, la vera e allarmante realtà è che il costante calo delle nascite degli ultimi anni comincia, come era prevedibile, a farsi sentire e, come ovvio che sia, lo si avverte dalle iscrizioni alla prima primaria per l'anno scolastico 23-24, che per la provincia di Sondio fa addirittura registrare il caso limite di zero primini alla scuola di Tartano. Ma non si tratta di un caso isolato, perché un solo Remigino varcherà la soglia delle elementari di Fusine a settembre, due a Campodolcino, tre a Cataeggio a Valmasino, quattro a Madesimo e vi sono diversi altri comuni dove il numero degli iscritti alla prima non arriva a due cifre. Supera, ma di poco quota 100 primini, soltanto il capoluogo, ma per raggiungere questa cifra bisogna sommare gli iscritti alle prime dei tre istituti comprensivi. I dati sono quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondio all'indomani del termine per le iscrizioni online, che si sono chiuse la sera del 30 gennaio. Seppure non definitivi, la loro elaborazione non darà senz'altro corpo a declatanti sorprese. Passando le medie o secondarie di primo grado che si preferisca chiamarle, le scuole con meno alunni che inizieranno la prima sono i cinque iscritti alla Aldo Scaramellini di Campodolcino, i dieci della paritaria Maria Cecilia Turchi di Sondio e i dodici di Aprica. Il maggior numero di iscritti in prima è dell'Avanoni di Morbegno, 105 seguita dalla Ligare di Sondio, 100, e della media di Ponte in Baltellina, 95. A pari merito con 86 nuovi iscritti, la Garibaldi di Chiavenna e la Torelli del Capoluogo. Passando infine alle superiori, su 1.573 iscritti alle classi prime, si possono fare alcune considerazioni, da quella, come anticipato, della tenuta dei licei, allo scarso appilla delle scuole professionali, fenomeno quest'ultimo che già riscontrano gli imprenditori in difficoltà perché gli operai specializzati non si trovano praticamente più. Tra le buone notizie, grazie ai nuovi 19 iscritti, la riattivazione del corso di CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Lex Geometry al Desimoni Quadrio di Sondio, dove l'indirizzo più gettonato per il 23-24 è comunque quello di grafica e comunicazione. In 68, in settembre, inizieranno a studiare all'Agrario e 68 saranno anche i ragazzi al primo anno del liceo artistico di Morbegno, l'unico in provincia, mentre il musicale di Tirano, Altro Unicum, si è fermato a soltanto 13 nuovi iscritti. Ha conosciuto tempi peggiori anche il liceo classico, che avrà la sua prima con 23 alunni, bene anche lo scientifico, dove tra i vari indirizzi piace sempre di più lo sportivo. A Chiavenna ha ottenuto addirittura 21 iscrizioni contro le sole 14 all'indirizzo tradizionale. Addirittura 43 gli aspiranti, visto che di classe se ne formerà una soltanto, liceali sportivi Aldonegani di Sondrio. In risalita anche gli iscritti e l'ex ragioneria, quella che ormai si chiama amministrazione, finanza e marketing. Infine, per quanto riguarda le professionali, anche gli indirizzi meno scelti la dicono lunga su quali saranno anche domani le difficoltà che già oggi lamenta il mondo del lavoro locale. Al Besta Fossati di Sondrio, per esempio, sono quattro soltanto gli iscritti al corso di operatore elettrico, dieci al Pinchetti di Tirano hanno optato per manutenzione e assistenza tecnica, soltanto sette a Morbegno per industria e artigianato per il Made in Italy.